Incidente con due auto coinvolte nella mattinata del giovedì 13 giugno, poco dopo le 9.30, sulla Pedemontana nei pressi del svincolo per Zegna Castellamonte. Una Ford Puma, condotta da una 29enne di Rivarolo Canavese e un'onda CRV con a bordo due ragazzi, si sono urtate lateralmente. La Puma è uscita di strada andando a sgentarsi e a ribaltarsi contro il guardrail, che spaccandosi è entrato nell'abitacolo sfondando parabrezza, fortunatamente dal lato passeggero vuoto. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, base e soccorso avanzato, i vigili del fuoco di Ivrea e i carabinieri di Rivarolo e Castellamonte. La giovane, dopo le prime cure, è stata trasportata all'ospedale di Quarnier per controlli, illesi i ragazzi sull'altra auto. Grazie a tutti.